car. E allora diamo un buongiorno, un ben arrivato, buon luglio e buon lunedì a Daniela. Siamo collegati con il comune di Vittorio Veneto, provincia di Treviso, quindi Veneto. Ciao Daniela, ben arrivata. Buongiorno, grazie mille. Allora Daniela, con te si torna a parlare di Infiniti Car, si torna a parlare di un'iniziativa molto importante che vede tutti i cittadini protagonisti per ripulire le strade delle nostre città, andando così a demolire tutte le insomma auto abbandonate, i veicoli abbandonati, a volte sottoposti a fermo amministrativo per ridare decoro urbano ma anche maggiore sicurezza proprio insomma ai nostri quartieri e a tutto il nostro circondario. Perché tu hai scelto di affidarti a Infiniti Car? Per un bisogno, un'esigenza della macchina che non sapevo come fare per demolirla tramite un passaparola eh cittadino praticamente che conoscevo io e sono arrivata a Infiniti Car. ottimo come servizio, cordialissimi eh però ovviamente io vorrei che questo questo servizio venisse comunque a conoscenza di tutto il Veneto. Ecco Daniela siamo qui per questo infatti però cerca di raccontarci esattamente quali sono concretamente i benefici che hai ottenuto quindi noi siamo qui per raccontare la tua testimonianza molto positiva di un cliente assolutamente soddisfatto quali sono quindi i vantaggi? I vantaggi sono eh praticamente ehm il servizio è immediato nel senso che ti contattano loro e eh loro sono praticamente disponibilissimi nel giro di una settimana al massimo eh riesci a risolvere il problema la cordialità e tutto quanto ottimo veramente ottimo quindi lo consiglieresti a tutti tutti sì tutti chi ha bisogno ecco chiaramente ascoltatori se avete capito bene avete dei problemi con un'auto che deturpa il vostro vicinato magari il vostro territorio avete un fermo amministrativo non sapete come fare per demolire la vostra auto ovunque vi troviate chiamate anche voi Infinity Car ricordiamo il numero zero due quarantotto quaranta dodici cinquantasei oppure andate sul sito di Infinity Car compilate il modulo subito e risolverete così sia il vostro problema naturalmente che quello della vostra città per una città più pulita decorosa sicura ringraziamo Infinity Car e tutti i comuni delle città d'Italia che ogni giorno si adoperano sul territorio nonché i loro cittadini tipo Daniela www.infinitycar.com grazie ancora Daniela e mi raccomando passa una buona estate grazie mille grazie millennium